Musica Futuro incerto alla Santa Croce, regione proprietà preannunciano denunce Crono programma per fondi comunitari, previsti bandi per oltre 82 milioni di euro Pubblicato l'avviso, garanzia over, è rivolto ai disoccupati di età superiore e 30 anni Giornata open day della psoriasi, 50% dei pazienti non si cura Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2 Dove che appare sempre più incerto il futuro produttivo dello stabilimento Santa Croce di Canistro Lo si deduce dagli ultimi sviluppi che non hanno contribuito a rassenerare gli animi Ma al contrario ad acquire una crisi che appare irreversibile Gli ultimi avvenimenti sono riferiti alla giornata di ieri Regione e proprietà dello stabilimento hanno chiarito le rispettive posizioni Ma andiamo con ordine ed iniziamo dalla nota della Regione Ci vediamo costretti a procedere per via giudiziale a tutela degli interessi dei lavoratori E' quanto hanno affermato il Vice Presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli e il Sindaco di Canistro Angelo Di Paolo al termine della riunione dell'avvertenza Santa Croce Nonostante l'Assemblea dei lavoratori che si è tenuta a Canistro abbia accettato le proposte avanzate dall'azienda La stessa non si è presentata al tavolo ieri sera per ratificare l'accordo sulla base delle proposte Che aveva presentato i lavoratori nemmeno 24 ore prima L'ipotesi di accordo si basava sui seguenti punti Pagare subito l'anticipo della Cassa Integrazione per il mese di settembre Pagare la Cassa Integrazione di ottobre alla data della scadenza contrattuale Versare per intero tutti gli importi 250.000 euro relativi al fondo di previdenza complementare Alifond Dare seguito per la chiusura della procedura di mobilità aperta l'8 settembre scorso E collocare i lavoratori in mobilità come ultimo ammortizzatore sociale fruibile Corrispondere al 50% del TFR e di tutte le competenze maturate A questo punto annunciano Giovanni Lolli e Angelo Di Paolo Avendo cercato nei mesi passati ancora in questi giorni ogni tentativo possibile Per giungere ad un accordo corretto, equilibrato e rispettoso degli interessi in campo Delle esigenze dei lavoratori e del ruolo delle istituzioni Ci vediamo costretti a procedere per via giudiziaria a tutela degli interessi pubblici Da qui la decisione di presentare un esposto denuncia alla procura di Avezzano Con la richiesta di immediato sequestro dello stabilimento Santa Croce E in via subordinata comunque sequestro delle bottiglie d'acqua Nell'assoluta e documentata certezza che si tratta di un bene della regione Come dimostrano gli acquisti effettuati in alcuni supermercati Che testimoniano attraverso i codici dei lotti Che l'imbottigliamento è successivo alle comunicazioni regionali Di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento della risorsa idrica Questa invece è la posizione della proprietà La società Santa Croce di Canestro ha avviato un esposto Tra gli altri alla procura della Repubblica di Avezzano Al prefetto e al questore dell'Aquila Ai carabinieri e al presidente della regione Per denunciare l'attuazione attraverso condotte delittuose Dello sciopero da parte di dipendenti e sindacati Nello stabilimento di Canestro Dove si imbottiglia l'acqua minerale distribuita a livello nazionale Lo fa sapere il patron della Santa Croce Camillo Colella Il quale motiva la scelta di interrompere le trattative Con regioni e sindacati e lavoratori Non partecipando al tavolo convocato all'Aquila Dal vice presidente della giunta regionale Giovanni Lolli Nel documento si chiede di dotare ogni più opportuna misura Affinché lo sciopero si svolga nel rispetto dei reciproci diritti Ed in assoluta sicurezza Evitando ulteriori attività illecite E comunque garantendo il libero e sicuro transito di mezzi E persone da e per lo stabilimento Non partecipiamo alla riunione e alle trattative Perché la Santa Croce non sta ai ricatti Spiega Colella Nel summit il mercoledì scorso Prosegue Abbiamo manifestato concrete disponibilità Assicurando l'anticipazione della cassa integrazione Ci aspettavamo aperture Come la cessazione dello sciopero Invece sono state cambiate le carte in tavola Con un gioco a rialzo Che vede la regione complice dei sindacati e lavoratori E con il comune di Canistro Protagonista di un silenzio assordante Non saranno più prese in considerazione richieste Fino a quando non potremo entrare nello stabilimento Stiamo subendo da mesi danni che qualcuno pagherà Continua l'imprenditore Come ho fatto la scorsa settimana Quando ho alertato ufficialmente le forze dell'ordine Sull'arrivo di Tierra Canistro Mi rivolgo alle istituzioni Alla polizia e carabinieri Affinché vengano assicurati i miei diritti Nel poter disporre di una mia proprietà Non è possibile permettere ancora ai lavoratori sindacati Di impedire l'ingresso E di minacciare noi proprietari Di autotrasportatori Di stessi dipendenti Che non stanno facendo sciopero Non è possibile che tutto ciò Avvenga davanti alle forze dell'ordine Qualche modo dobbiamo essere tutelati Insieme a tanti che sono legati a noi Come fornitori, clienti Indotto ed autotrasportatori Rassicuriamo comunque tutti Perché producendo da altri stabilimenti Manteniamo impegni ed ordinativi Diversi milioni di euro di fondi comunitari Sono pronti ad essere spesi in Abruzzo Di uffici della Regione Predisponendo il cronoprogramma Che porterà all'emanazione Di ben sette bandi Per circa 82,5 milioni Subito dopo, nei primi mesi del 2017 Prevista la pubblicazione di altri bandi Sempre nell'ambito della programmazione 2014-2020 Per la precisione 231,5 milioni di euro A valere sul FERS 142 sul fondo 432 Attraverso una ricerca del tessuto produttivo abruzzese Che è servito anche a capire Quali settori avessero maggiori chance nel futuro La Regione ha individuato 5 assi strategici su quelli pontari L'automotive, comparto di primaria importanza a livello nazionale ed internazionale L'aerospazio, il settore farmaceutico, l'agri-food, la mode, il design Che comprende anche il tessile e i mobilifici Settori in cui si registra una maggiore polverizzazione e una scarsa attitudine alla ricerca Primo bando riguarda la ricerca industriale, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione Attraverso il sostegno a progetti di ricerca delle imprese Che prevedano l'impiego dei ricercatori presso le proprie aziende Prossimo bando, che sarebbe nato invece rivolto al trasferimento tecnologico Ha una dotazione complessiva di 4 milioni di euro E prevede contributi fino a 200 mila euro alle piccole e medie imprese Subito dopo sarà la volta delle sei aree di crisi semplici Con un bando d'hoc da 23 milioni di euro Per la mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese Nell'ambito dell'asse 3 rivolto alla competitività del sistema produttivo Al dissesto idrogeologico sono invece destinati 25 milioni di euro Previsi incentivi poi per la promozione delle coefficienze Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche E da 4,5 a 3 milioni di euro nell'ambito dell'asse 6 Finalizzati a intervenire per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale Di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere i processi di sviluppo Infine previsti entro la fine dell'anno 8 avvisi dei 25 complessivi Che saranno pubblicati fino ad aprile 2017 Caratterizzato da interventi più piccoli ma di maggior numero Presentato oggi in conferenza stampa L'avviso pubblico garanzia over Rivolto ai disoccupati di età superiore ai 30 anni Vediamo Entra nel vivo la programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Rivolta ai disoccupati e dalle aziende Questa mattina l'assessore della politica del lavoro Andrea Gerosolimo E il capo Dipartimento Sviluppo Economico e Lavoro Tommaso Di Rino Hanno presentato l'avviso pubblico garanzia over Rivolto ai disoccupati di età superiore ai 30 anni Garanzia over Ha specificato l'assessore Andrea Gerosolimo Di fatto disegna la strategia che la Regione ha intenzione di portare avanti Sulle politiche attive del lavoro E cioè attenzione ai disoccupati di lunga durata Quelli di età dei 30 anni in su Con particolare attenzione ai 50 anni espulsi dal mondo del lavoro Quelli in sostanza che stanno pagando a caro prezzo La crisi economica ed occupazionale Ma soprattutto garanzia over È un bando che mira a produrre occupazione stabile Contratti di lavoro a tempo indeterminato Con consistenti incentivi alle imprese Che hanno intenzione di investire sulle risorse umane La dotazione finanziaria monta 4,7 milioni di euro Di cui 3,2 destinati a lavoratori che risiedono in zone svantaggiate Della Regione Abruzzo La misura erogata dal bando prevede incentivi alle aziende Con possibilità delle stesse di attivare tirocini di 6 mesi Che verranno rimborsati solo in caso di assunzione definitiva del tirocinante È questo, ha spiegato il Capo Dipartimento Tommaso Di Rino Un elemento che abbiamo inserito perché fotografa al meglio la logica del risultato Cioè la Regione è pronta a dare incentivi alle imprese Solo se queste portano a casa il risultato dell'assunzione a tempo indeterminato Mi sembra una scelta che responsabilizza lavoratori ed aziende Le misure di agevolazioni cambiano a seconda dell'età del lavoratore L'assessore Gerosolimo ha parlato di incentivi progressivi Che partono da un minimo di 6.000 euro per arrivare a 9.000 Se si assume un lavoratore over 50 Fino a 12.000 se si assume una lavoratrice over 50 Un'altra caratteristica del bando è che esso è aperto Non ha una scadenza temporale e rimane in piedi fino all'esaurimento dei fondi Rispondendo in questo modo anche alle mutevoli esigenze e bisogni dei disoccupati e delle aziende La tempistica del bando è questa Lunedì il bando verrà pubblicato sul sito www.abruzzolavoro.eu Dal 25 novembre i lavoratori disoccupati potranno registrarsi sulla piattaforma lavoro.regioneabruzzo.it Ed inserire il proprio curriculum Il 5 dicembre le aziende sul sito app.regione.abruzzo.avvisi pubblici Potranno presentare il dossiere di candidatura Ascoltiamo il riguardo comunque l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo Andrea Gerosolimo, assessore alle politiche regione del lavoro Il bando Garanzia Over è una risposta ad una categoria di lavoratori particolarmente colpita dalla crisi E questo è il vostro obiettivo e questa sarà la vostra idea quando l'avete pensato È una straordinaria opportunità per l'Abruzzo Rappresenta in qualche modo il pilastro di quella che sarà la nuova programmazione FSE 1420 Ci sono 4.770.000 euro di cui una gran parte 3.180.000 euro sono indirizzati alle aree più deboli della nostra regione Quindi alle aree che sono state individuate come aree interne, aree di crisi semplici, aree di crisi complesse Parliamo di qualcosa come 250 comuni abruzzesi che oggi scontano un deficit rispetto alla parte dell'Abruzzo Che ha una condizione socio-economica sicuramente più favoregola Possiamo dire che il Garanzia Over di fatto aprirà la stagione dei bandi della programmazione europea Cioè si cominciano a dare risposte ai cittadini nel campo del lavoro e dello sviluppo di politica attiva del lavoro Assolutamente sì, questo è il primo bando della nuova programmazione La prossima settimana sarà presentato Cruscotto lavoro che rappresenta un altro importante segnale E in qualche modo rappresenterà la voglia di questa regione di dare risposte sulle politiche attive del lavoro Credo che nell'arco di sei mesi faremo investimenti per qualcosa come 60-70 milioni di euro Comune di Avezzano rende noto che la commissione giudicatrice del bando relativo all'affidamento della piscina comunale Composta dall'ingegnere Francesco Di Stefano, dalla dottoressa Maria Laura Ottavi Dall'architetto Francesco Ruscetti e dall'ingegnere Vito Pacchiarotta Quest'ultimo con funzione di segretario ha dichiarato prima in gradutoria la società Centro Italia Nuoto Il dirigente del settore Sport Massimo De Sanctis provvederà nei prossimi giorni ad avviare l'iter necessario per la giudicazione della gara A seguito della giudicazione definitiva la società vincitrice gestirà la piscina comunale per i prossimi 10 anni 50% dei pazienti non si cura anche con psoriasi in forma moderata severa Mentre l'altra metà lo fa in modo inadeguato Sono le conclusioni scaturite dalla giornata Open Day di visite e prevenzione della malattia cronica della pelle Tenutasi il 29 ottobre scorso all'ospedale di L'Aquila nell'ambito dell'iniziativa a livello nazionale promossa dall'Associazione per la difesa degli psoriasi in occasione della giornata mondiale della malattia Il reparto di dermatologia nel giro di poche ore ha effettuato 37 visite e colloqui individuali gratuiti su altri tanti pazienti procedendo al ritmo serrato con l'apertura di due ambulatori e la presenza di 4 medici 18 pazienti dei 37 complessivi esaminati pur essendo affetti da una forma moderata severa della malattia non si erano mai sottoposti in precedenza a controlli nel reparto aquilano diretto dalla professoressa Maria Concetta Fergnoli unico centro nella provincia di L'Aquila a poter prescrivere e somministrare specifici farmaci per curare la malattia quando la terapia tradizionale si rivela inefficace Le 18 persone su cui si sono riscontrati i casi più severi sono state prese in carico del reparto che ha dato loro appuntamento in ospedale per iniziare un percorso terapeutico In base all'esito degli accertamenti che verranno effettuati su tali pazienti nei prossimi giorni il reparto aquilano, se necessario, potrà utilizzare i farmaci biologici di unici in grado di debellare le manifestazioni più aggressive della psioesi A di altri 19 pazienti visitati che soffrono invece di forme più lievi della malattia della pelle sono state prescritte terapie topiche con applicazione di farmaci direttamente sulla cute Tutti i pazienti visitati a dichiare la Fergnoli si sono rivolti a noi per la prima volta e una parte rilevante di loro finora non aveva mai consultato uno specialista Un aspetto che fa riflettere e che deve indurre la popolazione a una maggiore sensibilizzazione su questa patologia ancora poco conosciuta dalla gente pur avendo rivolti importanti sul piano sociale, terapeutico e dei costi sanitari Alcune delle persone visitate peraltro si erano rivolte ad altre strutture situate fuori regione o in altri ambiti regionali senza riuscire a risolvere il problema hanno così approfittato dell'occasione per venire da noi a sottoporci il loro caso Per una parte degli utenti saranno necessari maggiori approfondimenti aggiunge la Fergnoli perché sono emerse altre patologie come l'artrite che possono associarsi alla psioesi e che chiameranno in causa il servizio reumatologia del nostro ospedale per un lavoro in sinergia La giornata di prevenzione ha portato comunque nel reparto di dermatologia aquilana persone tra 20 e 70 anni con maschi e femmine presenti, numero pressoché simile La prima edizione di Open Day Winter Abruzzo appena conclusa ha ottenuto notevole successo I risultati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa in regione Vediamo il servizio Circa 8.000 per notamenti in più rispetto alle medie del periodo con 24.000 presenze nelle strutture ricettive e 60.000 gli eventi organizzati su tutto il territorio regionale È positivo il bilancio di Abruzzo Open Day Winter finanziata dalla regione Abruzzo per inaugurare un nuovo percorso nelle strategie di sviluppo turistico I dati sono stati illustrati questa mattina a Pescara dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, dal direttore generale della regione Cristina Gerardis dal dirigente del servizio politiche turistiche Francesco Di Filippo e da Claudio Ucci, rappresentante delle DMC abruzzesi, cioè delle Destination Management Company I tesori dell'Abruzzo, appuntualizzato da Alfonso, vanno svelati, accesi, illuminati e legati in una storia e di una sorta di processo a quelle qualità che la nostra regione racchiude in sé La grande forza di iniziative come Open Day sta nella mobilitazione che ha coinvolto la comunità in un patto tra istituzioni pubbliche e di imprese private Sull'importanza di fare sistema in modo concreto e reale, come in questa occasione si sono soffermati anche Di Filippo e Ucci, mentre la Gerardis ha sottolineato come l'evento abbia risentito naturalmente degli effetti del terremoto, riuscendo comunque a centrare gli obiettivi che erano stati posti alla vigilia Questa esperienza è servita anche a verificare ciò che va migliorato e completato ed implementato come il portale che deve essere ulteriormente promosso, visto che rappresenta uno degli assi centrali su cui calibrare i prossimi interventi in una proposta attiva e dinamica La macchina organizzativa di Open Day non si ferma con l'iniziativa appena conclusa La campagna sui social network continua e attraverso il portale web saranno veicolate altre iniziative collaterali come il Capodanno in Abruzzo Nel frattempo, già il prossimo gennaio, saranno pubblicati gli avvisi per presentare le proposte da inserire nell'Open Day Summer A margine della presentazione dei dati, il Presidente D'Alfonso ha annunciato l'idea di utilizzare le tratte autostradali abruzzesi, su cui transitaranno ogni anno 25 milioni di persone per una nuova campagna promozionale del territorio che non riguardi solo le bellezze paesaggistiche e artistiche ma anche gli eventi e le curiosità che riguardano la Regione A riguardo abbiamo un'intervista con il Direttore Generale della Regione, Cristina Gerardis Tempo di bilanci per Abruzzo Open Day Winter 2016 è la prima esperienza del genere nella nostra Regione che la scorsa settimana ha portato in Abruzzo moltissimi visitatori che hanno seguito le decine di manifestazioni che erano organizzate su tutto il territorio Oggi dicevamo tempo di bilanci, siamo con il Direttore Generale della Regione, Cristina Gerardis è andata bene? Sì, siamo soddisfatti, è una banalità dire nonostante gli eventi non certo favorevoli di questi giorni anche sul territorio abruzzese che hanno creato un clima non favorevole a un evento turistico e quindi all'arrivo di viaggiatori, proprio per questo siamo soddisfatti perché nonostante gli eventi il numero zero di Abruzzo Open Day ha avuto comunque dei numeri veramente soddisfacenti sia dal punto di vista degli accessi sul web perché chiaramente abbiamo un controllo, abbiamo verificato quali sono stati gli accessi sul web che dal punto di vista delle presenze sul territorio e della partecipazione agli eventi gli eventi sono stati soprattutto ciò che ha attratto di più i visitatori stiamo anche verificando su quali aspetti possiamo limare perché essendo il numero zero vogliamo migliorare naturalmente e sicuramente un aspetto su cui lavorare è quello del booking la piattaforma di booking, dobbiamo comunicarla meglio e coinvolgere maggiormente anche gli operatori in modo tale che si invitino i viaggiatori a prenotare lì perché molte presenze ancora non le abbiamo come riscontro statistico perché i visitatori sono arrivati per altri mezzi non attraverso la nostra piattaforma booking comunque abbiamo avuto, leggo perché me li hanno appena mandati circa 24.000 presenze sul territorio abruzzese con 8.000 arrivi abbiamo avuto degli eventi come per esempio il convegno degli speleologi quindi anche una cosa un po' particolare, non totalmente popolare che ha avuto addirittura 3.600 presenze e abbiamo un primo dato di presenze agli eventi di 60.000 persone complessive quindi direi che siamo soddisfatti ma che siamo impegnati da oggi a migliorare quello che abbiamo visto non funzionare perfettamente auspichiamo che anche questo periodo così negativo e sfavorevole si possa terminare Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto con misure per affrontare l'emergenza dopo terremoto nel testo a quanto si apprende la nuova definizione del cratere del sisma e provvedimenti su agricoltura, scuola e beni culturali anche con l'obiettivo di snellire la macchina della burocrazia il testo dovrebbe essere pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale tra le misure attese in Abruzzo l'alleggerimento dei paletti che consentono di svolgere verifiche sugli edifici pubblici dai soli agibilitatori che sono solo una quindicina in Regione a tutti gli ingegneri della pubblica amministrazione in possesso di determinate caratteristiche un allargamento inevitabile per fare fronte ad una richiesta di controlli da parte dei dienti che sfiora i 12.000 edifici pubblici da bagliare il 4 novembre si celebra in tutta Italia la giornata dell'unità nazionale delle forze armate l'amministrazione comunale di Celano nel ricordo del sacrificio degli italiani che nella prima guerra mondiale combatterono per la rionificazione e l'indipendenza della nazione ha proposto un momento celebrativo per rendere omaggio alle vittime di tutte le guerre il programma della giornata ha avuto inizio con la celebrazione della Santa Messa in onore dei caduti al termine della funzione religiosa si è formato il corteo fino a piazza 4 novembre e al termine della funzione dove è stata deposta la tradizionale corona dall'oro al monumento dei caduti a seguire il discorso celebrativo del sindaco Settinio Santilli è arrivato oggi ad Avezzano il McTaglia Job Tour l'evento itinerante di selezionare del personale che viene impiegato per le nuove aperture McDonald's lungo la penisola alle ore 10 in piazza Torloni hanno preso il via colloqui individuali per le persone che lavoreranno nel nuovo ristorante sono oltre 1.300 i curriculum ricevuti per i 32 nuovi posti di lavoro previsti per il McDonald's che aprirà ad Avezzano i principali requisiti e richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente i colloqui individuali di oggi sono stati riservati circa 100 candidati che hanno già superato le prime due fasi di selezione online inserendo il proprio curriculum e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it queste persone avranno la possibilità di incontrare i dipendenti dei di altri ristoranti della zona che racconteranno loro la propria esperienza candidati selezionati saranno inseriti a breve in un percorso di formazione proprio audautico alla nuova apertura McDonald's offre soprattutto ai giovani una concreta possibilità di ingresso nel mondo del lavoro di crescita professionale nei circa 535 ristoranti in tutta Italia lavorano oltre 20.000 dipendenti che servono ogni giorno più di 700.000 clienti nel sistema McDonald's il merito le pari opportunità e la crescita professionali sono pilastri fondamentali attraverso la formazione e il supporto costante chiunque può partendo dalle posizioni più operative arrivare fino a quelle di maggiore responsabilità nazionale e internazionale il consiglio comunale di Scelano tornerà a riunirsi in seduta straordinaria al giorno lunedì 7 novembre alle ore 21 prima convocazione per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno lettura e approvazione dei verbali delle sedute del 12 febbraio e 23 aprile 2016 ratifica variazione del bilancio di previsione 2016-2018 deliberazione di giunta comunale numero 140 del 10 settembre 2016 nomina del revisore unico per il triennio 2016-2019 ratizzazione pagamenti canoni locazione dagli alloggi di edilizia presidenziale pubblica lavori di realizzazione pavimentazione corte interna alloggi popolari in via Peretti allineazione realitto stradale Giovanni Serchia e progetto social housing per giovani coppie Presidente di Confagricoltura all'Aquila Concezio Gasbarro interviene in ordine alle problematiche legate al settore forestale abruzzese va presente che la politica europea di sviluppo rurale 2014-2020 riconosce le risorse forestali e il settore produttivo ad esse collocato come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e delle priorità strategiche dello sviluppo rurale con particolare riferimento alle priorità di lotto al cambiamento climatico sostenibilità energetica e conservazione della biodiversità la selvicoltura viene considerata dall'Unione Europea come parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno alla stessa dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle risorse boschive la regione abruzza attraverso l'attivazione delle misure del programma di sviluppo rurale 2014-2020 dovrebbe concorrere a promuovere incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio contenere il cambiamento climatico e conservare la biodiversità purtroppo tutto questo non è possibile in Abruzzo in quanto la regione ha deciso di finanziare con scarse risorse il settore forestale ancora di meno rischia di impegnarne con la misura 8.5 quella che più di tutte integra gli aspetti occupazioni di interventi strutturali nei boschi davvero un pessimo esempio di attenzione verso le foreste conclude Gasparro bene primario di interesse pubblico caratterizzato da condizioni di svantaggio strutturale e socio-economico spesso localizzate in quei territori resilienti e quindi maggiormente necessitante di sostegno anche per la produzione di beni e servizi ambientali la prefettura dell'Aquila comunica che per effetto di un'ordinanza del comune dell'Aquila in corso di emissione relativa ai lavori di demolizione del cosiddetto Palazzo del Benzinaio da oggi a lunedì 7 novembre compreso sarà disposta la chiusura al traffico veicolare pedonale di corso Federico II dall'incrocio con via 20 Settembre per una lunghezza di circa 100 metri per l'accesso alla prefettura restano percorribili altre vie pedonali del centro storico nella mattinata di oggi si è tenuta presso la scuola media d'amterighieri su cursale di Paganica un incontro tra l'arma dei carabinieri degli alunni dell'istituto ad organizzare e coordinare l'evento sono state la dirigente scolastica Antonella Conio con l'ausilio della sua vice Anna Silva Giusti e del restante corpo docente di assistenza i 20 ragazzi della scuola hanno accolto il comandante della compagnia carabinieri di L'Aquila capitano Francesco Nacca e il comandante della stazione di Paganica maresciallo Nunzio Gentile in un clima di grande ospilità e dopo le presentazioni di rito sono state affrontate prima tematiche afferenti le celebrazioni del 4 novembre festa delle forze armate e dell'unità nazionale e poi aspetti riguardanti la cultura della legalità per quanto concerne la ricorrenza della festa delle forze armate e dell'unità nazionale è stato fatto un rapido escursio storico delle radici di detta celebrazione dell'alto simbolismo che rappresenta l'altare della patria e del milite gnoto dopodiché più dettagliatamente sono stati evidenziati gli aspetti che riguardano più da vicino il contributo fornito dall'arma dei carabinieri in quelle vicende storiche nel ruolo che essa aveva all'epoca quale prima arma dell'esercito regio infine sono stati disposti molto dettagliatamente argomenti molto sentiti dalla comunità giovanili come ad esempio i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e all'incontro hanno preso parte comunque circa 150 studenti questa era l'ultima notizia prima del saluto come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antenauditv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile scoprire anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e rivederci Grazie 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 Grazie.